Estate Leporanese 2020, amministrazione comunale di Leporano, assessorato al turismo e allo spettacolo. Sabato 29 agosto, ore 20 e 30, Piazza Maria Immacolata a Leporano e Mofa Cimena a Bella Resata. Compagnia teatrale Lino Conte, spettacolo comico di Antonello Conte e Alessandro Salamina. L'attore e regista Lino Conte metterà in scena una serie di sketch, i più divertenti del suo repertorio. Un susseguirsi di battute e di situazioni paradossali di grande comicità, per regalare al pubblico una meravigliosa serata di divertimento. Ingresso libero, vi aspettiamo!